ben ritrovati ragazzi ciao a tutti vi ricordo per chi volesse sostenere il canale lo può fare gratis con un semplice clic di iscriviti ed attivando la campanellina sono mancato per qualche giorno ma ho avuto degli impegni di lavoro all'estero sono tornato vorrei andare in ferie ma ancora mi manca mi mancano due settimane e allora quale miglior modo per rilassarsi un po parlando di calcio e dell'inter in particolare allora sul ballerino incominciamo dal ballerino da correa quando l'anno scorso d'estate ti dicevo non prendiamo giudacu lasciamolo lì e meno male l'abbiamo lasciato lì ora è diventato tifoso del napoli l'hai visto sta cancellando tutte le foto hai visto sta facendo giudacu quello è un aumento piccolo così quando ti avevo detto anche l'estate scorsa il ballerino non può chiedere 15 milioni non li vale un giocatore da 6 7 8 hanno voluto fare gli ingordi e ora sei costretto a pagarlo per farlo andare via perché io te l'avevo detto che avrebbe fatto il giro delle sette chiese e che sarebbe andato via tipo giovane o mario te l'avevo detto ci sono i video ma non serviva un genio per capirlo non è un giocatore di calcio e c'è gente che al canale youtube che lo ritenevano fuori classe fino a due anni fa non capite nulla di calcio voi guardate il cricket poi io vorrei chiarire una volta su tutte i discorsi ragazzi cioè allora optri 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 si è ritrovata l'inter non gliene frega una sega di nulla dell'inter optria dichiarato ufficialmente che ha prestato i soldi a zang cosa che qualcuno tipo gli esonerati dice da due anni optri presta i soldi a zang oltre il discorso del compratore come dicevano fino a due tre mesi fa sole 24 ore repubblica e corriere della sera che optri presta i soldi perché ha già un compratore lo dicevano più gli esonerati ma la cosa importante e da sottolineare che optri presta i soldi a zang perché nel triennio lui avrebbe dovuto vendere cosa che non ha fatto ma ci avrebbe portato nel baratro perché con lui rischiavi seriamente il fallimento quindi optri si è ritrovato un asset dove non investirà quasi nulla lo terrà terrà una squadra competitiva per poi rivenderla la differenza qual è lei ci sono delle differenze notevoli perché io ho espresso più volte i vantaggi di stare con optri rispetto a quelli di stare con zang perché te non devi guardare solo la palla entra te dovevi fare un discorso di sopravvivenza perché oltre può garantirti una sopravvivenza zang non te la poteva garantire più una sopravvivenza è da lì che bisognava ripartire dalla sopravvivenza dalla continuità aziendale cosa che zang non era più in grado di dare perché nonostante sia tutto regolare e ormai sia stato accertato che sia stato tutto regolare indipendentemente da quei quattro pazzi e continua a rompere i coglioni zang garantiva la continuità aziendale tramite un prestito che durava fatica che che non è riuscito poi dopo alla fine di pagare ma ha ripagato il suo debito poi ancora fanno confusione con debiti di zang debiti dell'inter ed è sempre la stessa storia discorso quale è che zang non interveniva con le decisioni dei dirigenti mentre optri si optri ti dice non lo voglio ormoso a 29 anni perché siamo già la squadra più vecchia della serie a e questo è il discorso che fa optri optri non ragiona con il cuore noi siamo un asset per loro che si sono ritrovati in mano e che non volevano gestire perché non lo volevano gestire perché lo hanno dichiarato ufficialmente più di una volta prima dell'escursione basta aver riposciuto la mata agli occhi ragazzi basta optri poi non aggraverà la situazione debitore non si esporrà prestiti non si espongono la devono mantenere più snella possibile a livello finanziario perché poi bisogna mettersi nei panni anche di questi signori prendono comunque un asset che è sicuramente un gran valore ma che continua a perdere soldi mesi dopo mesi quindi mese dopo mese quindi già devono ripienare una perdita di 50 milioni già hanno dovuto pagare il mercato dell'anno scorso che si aggiura sui 35 40 milioni già ci hanno messo circa 100 milioni tra perdite e mercato dell'anno scorso con gli obblighi da pagare frattesi augusto a un nato vice e via discorrendo ma con rock tree non saremo costretti a cedere un top all'anno come faceva i cinesi e poi mi dirai ma la politica dei parametri zero pagava si ha pagato ma bisognava vedere fino a quanto poteva pagare perché poi arriva ad avere una squadra che l'età media alle 40 anni cioè capito è un po' un cane si morde la coda ci sono molti vantaggi con rock tree secondo me ci sono dei vantaggi da cui non potevi fare cioè ci sono dei vantaggi con rock tree basilari ovvero sia la garanzia che a livello economico sei credibile che puoi andare avanti perché con zang non potevi più andare avanti però credibilità finanziaria e non hai problemi di sopravvivenza come avevi con zang molto semplice ha rinnovato a tutti non ha venduto nessuno con i cinesi qualcuno lo dovevi vendere siamo sempre lì ma levatevi dalla testa investimenti di giocatori 35 40 non esiste penso che ne state accorti ora no altro buongiorno e buonasera perché vogliono investire sui giovani ho capito ma un po' è andare a prenderli all'asino nido i giovani a due trecento mille euro i giovani forti costano costa più dei venticinque dei trentenni anche lì bisogna capire un primo capito puoi avere la botte piena della moglie ebreaca ma loro non investiranno più di tanto andiamo a chiesa a parte che affari con la juventus li vedo impossibili ma il calciatore chiesa io parto da un presupposto che a me il calciatore chiesa piace ma devo anche analizzarlo secondo la mia idea allora se io analizzo il calciatore chiesa ti dico che fisicamente è un mezzo catorcio e secondo me non può più giocare punta esterna quando visto quando si lanciava la palla davanti e andava a duemila perché lo sottoponi a tanti infortuni ai troppi infortuni che ha avuto nell'ultimo anno e mezzo barra due quindi lo prenderesti chiesa sì ripeto la vedo impossibile una trattativa con la juventus ma è un giocatore da rifare come ragionavo stamattina con michele che saluto non lo userei più come punta esterna ma lo userei come seconda punta perché comunque bravo tutti i due piedi salta l'uomo a tecnica a tiro vede bene la porta capito perché lasciando la punta esterna con gli scatti lo sporresti troppo agli infortuni a cui purtroppo come ho detto prima è stato sottoposto negli ultimi due anni e poi andrebbe costruito proprio come giocatore e in zaghi potrebbe farlo dovrebbe giocare meno testa alta ed alzare ed alzare la testa facendo la seconda punta allora potrebbe essere anche un bel giocatore ma a un anno dalla scadenza l'inter lo paga 20 25 fai affari con la juve gli dai frattesi ma non penso proprio la vedo una cosa quasi impossibile e lo dico senza sapere nulla o sì come lo dicevo per buongiorno senza sapere nulla come l'ho detto per guirassi senza sapere nulla come l'ho detto per beto senza sapere nulla e come l'ho detto per altri giocatori hanno dei parametri valutativi troppo alti magari l'inter puntava a prenderlo a zero cioè non puoi pagare 25 30 milioni uno e si libera a zero quindi questo è il discorso bisogna cominciare a cedere ragazzi cominciamo a cedere perché se non si cede qui secondo me non si prende nessuno perché esce uno entro un altro esce uno entro un altro però comunque il lato positivo di ottrice ma non è una squadra innamorata non è una squadra non è una scusa una proprietà innamorata non è una squadra agisce di pancia è una squadra e ci tratta come un asset perché noi perché noi siamo quello per loro siamo un asset che si sono ritrovati tra le mani mi sono spiegato ciao inter grazie